bene partiamo verso il picchia morto in questa giornata un po uggiosa si troviamo questo nuovo attacco per l'agopro da manubrio wow Oh! bello questo feeling ooo Wow! Mamma mia! Che velocità! Bello questo punto! Grazie a tutti! Ok Oh! Guardo! figata e anche per oggi abbiamo dato portiamo a casa i mezzi belli infangati come sempre ciao alla prossima ciao